Buongiorno a tutti, mi presento, sono Carla Marchetti, ho l'onore di dirigere il Liceo delle Scienze Umane e Musicale Sebastiano Satta di Nuoro. Siamo noti sul territorio come le magistrali, che rappresentano in effetti il nostro passato, le nostre radici. Siamo molto orgogliosi di questo, infatti il nostro motto è il futuro nella tradizione. Il futuro è rappresentato all'interno della nostra scuola dalla offerta formativa che prevede quattro indirizzi liceali. Il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Economico-Sociale, il Liceo Musicale e dal prossimo anno anche il Liceo Corentico. In quest'anno molto particolare, in cui non ci possiamo incontrare, non possiamo parlare, non possiamo avere scambi di nessun genere, abbiamo pensato, per farci conoscere, di proporvi i nostri ragazzi e le loro voci. E potrete seguirci e seguirli sul nostro sito e sulle pagine social della nostra scuola. Mi sono iscritta a Liceo Musicale perché voglio continuare gli studi al conservatorio. Perché voglio imparare a produrre musica. Mi sono iscritta al Liceo Economico-Sociale perché mi piace studiare la contemporaneità. Perché mi dà la possibilità di studiare beni culturali all'università. Mi sono iscritta al Liceo delle Scienze Umane perché un domani mi piacerebbe studiare la facoltà di filosofia. Mi sono iscritta al Liceo Musicale perché voglio lavorare nel mondo della musica. Perché la musica è la mia vita. Ho deciso di elegire il Liceo delle Scienze Umane e Economico-Sociale perché mi piace studiare la scienze umane e anche perché mi permette studiare il spagnolo, che è un idioma che non si studia in tutti gli istituti. Mi sono iscritta al Liceo Economico-Sociale perché mi piace studiare diritto d'economia. Perché mi piace studiare la sociologia. Mi sono iscritta al Liceo Musicale perché mi piace suonare le percussioni. Mi sono iscritta al Liceo Musicale perché amo la musica. In questo periodo così difficile che richiede a tutti noi grandi sacrifici, tuttavia ci siamo organizzati per potervi accogliere nelle giornate dedicate agli Open Day. Per questo, eccezionalmente qui riuniti tutti insieme, vi diciamo venite a trovarci. Vi assaggiamo! Forza ragazzi, ce la possiamo fare! Grazie a tutti!